Cari amici, prima della presentazione della nostra ennesima denuncia contro loro signori facciamo un piccolissimo escursus, così molto piccolo, relativa ad alcune cose. La prima è l'ultimo numero della pregevole rivista, prestigiosa rivista Il Carabiniere da cui sperando che gli amici la possano vedere, questa fotografia qui e semmai se tieni un momento questa la voglio far vedere al dettaglio poi dice che non gli somiglia, potrebbe dire che non gli somiglia. Ho scoperto il vero volto dell'uomo di Neandertal che somiglia in maniera impressionante all'attuale capo del cosiddetto Consiglio dei Ministri se consiglio si può chiamare questa accossaglia di brava gente che si chiama Matteo Renzi, lo voglio far vedere di nuovo eccolo qui, no così no, vai fuori con le scala lo facciamo vedere con le scala, allontanandosi e abbiamo quindi scoperto chi è Matteo Renzi e questo è diretto, questo è il babbo, l'hanno resuscitato dagli inferi l'altra cosa molto bella, questa è bella perché ci ricorda altre cose carabinieri per finta, truffatori per vocazione si sarebbero finti carabinieri dei Nax per paventare ad alcuni anziani allevatori multe salatissime conseguenti a presunte irregolarità nell'esercizio della loro attività allora, vedete, voglio far vedere anche qui, è che è volato un foglietto? no vabbè, sì è volato, vabbè allora, ci chiediamo, questi si fingono carabinieri ma quelli di Equitalia, che proprio non sono funzionari e che si inventano le peggio cose per fregare i cittadini e di recente è proprio successo una cosa di una gravità incredibile per cui questi di Equitalia hanno chiesto a un condominio a causa del fatto che il condominio guardate bene quello che ci sono inventati questi strani funzionari così ritengono di farsi chiamare di Equitalia hanno chiesto a un condominio calcolando degli interessi assolutamente assurdi hanno chiesto al condominio il pagamento di un debito che una certa persona che aveva un debito apparente di questo tipo con Equitalia ma aveva un credito di 2.000 euro, 2.500 euro hanno chiesto al condominio 32.000 euro ora dico, qui la pazzia è totale qui si parla di falsi carabinieri ma questi che caso sono? falsi uomini, falsi intelligenti figli di Matteo Renzi intanto non sono falsi ma la cosa più grave di tutto è che loro cercano di spellare al massimo perché hanno percentuali altissime sul recupero dei crediti esattamente una vera autentica associazione per delinquere e mi sembra che queste cose siano importanti da dirsi anche perché noi più volte abbiamo denunciato queste porcate e continueremo a farlo cari amici continueremo a farlo elencando nome per nome queste brave persone che senza alcuna autorizzazione senza nessuna legittimazione di Stato d'altronde non potrebbero nemmeno farlo ricordiamocelo bene se non fossero dei delinquenti allo Stato primordiale senza nessuna autorizzazione non avrebbero potuto ricattare minacciare la povera popolazione è la stessa cosa dei bravi bisogna dire che la Raffaella Orlandi stessa pare che non sia neanche laureata ma pure se lo fosse comunque è stata nominata e non ha assunto la sua carica tramite un concorso pubblico con un successivo corso di formazione per il ruolo che va a ricoprire esattamente cioè la Presidente stessa dell'Ufficio delle Entrate la Direttrice Generale dell'Ufficio delle Entrate è abusiva abusiva quindi che vogliamo dire? basta semplicemente dire no, non ti do una lira sei abusivo e in tribunale voglio vedere se uno va davvero in tribunale apportando anche solo come argomentazione questo punto di vista penso che sicuramente ha buone chance allora siccome stiamo sempre parlando di questo abbiamo qui molti dei nostri amici conosceranno il noto giornalista televisivo Gianni Biziac che aveva per lungo tempo tenuto una trasmissione di carattere storico una buona rivista no, no trasmissione Rai sì, una buona trasmissione sì, una buona trasmissione ogni tanto c'era qualche strafalcione di quelli colossali ma lasciamo andare allora tu ti chiedi da dove viene questo andazzo ti risponde Gianni Biziac sempre lo stesso numero del carabiniere dove dice 1946 e l'Italia votò allora caro amici diciamo le prime righe personalmente io che avevo appena campiuto 19 anni vivevo drammaticamente e privatamente un amore non corrisposto con una compagna di liceo a Gorizia c'è il nome Bisiaci è certo è slavo no slavo Goriziano un italiano sì, Goriziano ma di origine slava comunque e guardavo distratto alle grandi vicende del mondo in quel dopoguerra molti altri italiani soffrivano la fame e la miseria come potei constatare pochi mesi dopo quando andai a Napoli per imbarcarmi per l'Africa attraversai tutta l'Italia e vidi le città piene di macerie passai il posto un provvisorio ponte di barche c'erano dappertutto povertà e squallore a Napoli gli spazzini non si vedevano da tre anni e perché adesso e perché adesso che si vedono ancora gli spazzini a Napoli no no dice l'Italia è nata la Costituzione l'Italia è nata dalla liberazione eccola qui la liberazione ma non è finita mancava il lavoro e per le donne l'attività più diffusa indovina un po' indovina un po' puttana la prostituzione per gli uomini il furto il mercato vero e il contrabbando di sigarette americane come si vede nei film Paesà di Roberto Rossellini ottimo grande film triste ma vero e come si legge nei libri famosi di Curzio ma la parte La pelle è caputa di cui consigliamo vivamente la lettura a Napoli la prima nave con la quale avrei dovuto raggiungere l'Africa venne affondata appena uscita dal porto per incassare l'assicurazione mi pare ovvio è così che si fa anche con la Concordia è naturale io mi salvai scendendo all'ultimo momento io non so che i passeggeri della Concordia che fine abbiano fatto però lui fu avvisato anche lì attento eh io mi salvai scendendo all'ultimo momento grazie alla confidenza di un marinaio amico quindi sapevano tutto e gli altri chissà che fine hanno fatto in attesa di imbarcarmi su una seconda nave il piroscopo toscana per mancanza di danaro affittai un letto in una stanza in cui dovevo dormire in compagnia di cinque sconosciuti ora ragazzi l'italiano comincia a vivere così perché i buoni posti letto li danno ai migranti perché se no come lucrano sui migranti preti pretonsoli frati monache assistenti sociali badesse cardinali cardinaloni cardinalucci comunisti pure eremiti sì gli eremiti soprattutto il famoso affittano i romitori sì il famoso romito di Poggi Bonsi che non cagava ma scutava stronzi stronzi infatti dicono che Renzi si è stato sputato vista di quelle parti dal romito di Poggi Bonsi la figlia della padrona indovina che faceva che poteva fare peripaterica la figlia della padrona dietro una tenda non dormivano esercitava il meretricio nobile arte nobilissima per sopravvivere poteva mangiare ogni giorno solo un chilo di mele marce che costava a decidire e che gonfiavo nel mio stomaco con l'acqua di rubiletto questo è il mio ricordo di quel 1946 al ritorno dall'Africa quando il mio amico Massimo Rendina mi fece assumere alla RAI mi dedicai a rinchieste di storia in televisione in particolare sul 2 giugno mi aiutarono alcuni protagonisti di alto livello e cioè lo stesso re Umberto di Savoia che seguiva dall'estero le mie trasmissioni il ministro della Real Casa Marchese Falcone Lucifero Teo Consiglio che lo rappresentava in Italia e l'onorevole Nilde Jotti che fu presidente della Camera dei Diputati per ben tre legislature il fatto che poi Nilde Jotti che era una belloccia diventasse vedi caso presidente della Camera maritata al signor Togliatti amante del signor Togliatti vabbè diciamo compagna compagna del signor Togliatti è un fatto completamente marginale no? ecco voglio continuare su altri due articoli che è bene lesere questo è un articolo che è stato pubblicato dal giornale il 26 marzo 1990 perché è è veramente interessante era una lettera ma vale proprio su misura per quanto per quanto veramente riguarda l'Italia di oggi è una lettera quindi c'è 26 anni esattamente i vecchi esistono con loro carico di problemi quotidiani c'era un'altra cosa un'altra lettera è vero i vecchi esistono è vero che cosa è successo che siccome in Inghilterra hanno vinto quelli che vogliono uscire dall'euro si sono messi tutti a urlare scandalo sono i vecchi i vecchi ragionano più dei giovani hanno esperienza conoscono le cose sanno perfettamente come vanno le cose i giovani ovviamente sono rintontoliti dalla televisione dal rock e di altre idiosie del genere questa lettera è molto bella e tu vedrai quanto è bella questa è la ragione per cui ho trattenuto questa pagina è titolata eterogenesi dei fini caro direttore condivido quanto da lei scritto nel fondo dal titolo toga nostra del 17 marzo a proposito del consiglio superiore della magistratura si pensi tra l'altro che si è inteso il bisogno di designare una corrente di magistrati come magistratura indipendente laddove l'aggettivo dovrebbe essere ovviamente pleonastico magistratura indipendente vuol dire che tutti gli altri sono dipendenti a meno che non si voglia dire apertamente che vi sia una magistratura non indipendente è certo oh ma guarda è scritto nel 90 oggi noi la controfirmiamo quando e quando volete al punto in cui siamo giunti può affermarsi che si è verificato quel fenomeno che gli storiografi e i filosofi definiscono eterogenesi dei fini ora questa è una cosa molto importante perché ricordo che io più volte ho parlato della eterogenesi dei fini che è stata sostenuta soprattutto dal grande storico Augusto del Noce per esempio la Gran Bretagna è entrata in guerra per conservare l'impero e proprio a causa della guerra ha perso l'impero anche queste cose l'abbiamo detta tante volte il consiglio superiore pure ha vinto la guerra guarda il paradosso glielo dicono glielo fanno credere vabbè però l'ha vinta senza difetti in effetti è dalla parte dei vincitori però non hanno vinto il caso poi l'ha vinta la casta dirigente l'ha vista l'ammiragliato britannico il popolo inglese non ha vinto proprio niente il consiglio superiore della magistratura ha previsto quale garante della indipendenza dell'ordine giudiziario lo condiziona limitandone quindi l'indipendenza che avrebbe dovuto garantire così stando le cose l'articolo 101 della Costituzione e te lo consiglio i giudici sono soggetti soltanto alla legge è rimasto per i credenti anche ecumenici che vi sia un pie in the sky cioè che ci sia una torta nel cielo come dicono gli inglesi o che esista la befana per dirla alla ruspante avvocato Ugo De Leone l'ultima cosa di cui vi volevo leggere perché è veramente interessante tra l'altro c'è una frase che riporto perché è molto bella che sta a dimostrare quanto poco ci sia di cristianesimo nelle asserzioni dell'illuminare della chiesa della filosofia della filosofia pre-pre-cristiana quindi una frase di Marco Aurelio gli uomini sono gli uni per gli altri quindi questa frase qui non è vera che sia verace del cristianesimo inventata ma di Marco Aurelio esattamente quindi neanche Grillo neanche Grillo meno che mai l'ultima cosa che è molto bella anche questa la voglio leggere perché fa confermare alcune mie asserzioni Ascanio Celestini qui Ascanio Celestini ha fatto una una non viene sempre da parlare tra le stesse una sua performance di recente e voglio leggere quello che c'è scritto Ascanio Celestini porta in scena in maniera ironica e grottesca un Gesù contemporaneo e improbabile che si confronta con i propri dubbi e le proprie paure vive chiuso in un appartamento di qualche periferia dalla sua finestra si vede il parcheggio di un supermercato e il barbone che di giorno chiede le lemosina e di notte dorme tra i cartoni Cristo non si è incarnato per redimere l'umanità ma solo per osservarla accanto a lui l'apostolo Pietro come sostegno questo Cristo contemporaneo è interessato a ciò che accade fuori soprattutto vuole sapere del barbone non per salvarlo dalla sua povertà ma per fargliela vivere allegramente mi pare giusto è la filosofia dei cattocomunisti assolutamente dei giullari benissimo tipo Grillo ma tutto bene Grillo ma soprattutto Grillo almeno nella parte iniziale della sua attività di attore almeno denunciava questa situazione adesso non la denuncia più Benigni il massimo profeta proprio esattamente nel pittino corretto quando sbaglia mi dice mi sono sbagliato ho cambiato idea esattamente non dico Renzi che compare sempre per dire che tutto va bene madama la Marchesa finisco la lettura perché come se il mondo fosse il parcheggio davanti alla sua finestra questa è l'interpretazione del cristianesimo della attuale cristianità soprattutto quella cattolica accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei Celestini narra con la sua carica di energia scenica come il crollo delle ideologie guarda bene che è quello che io ho sempre sostenuto stia erodendo anche le religioni attraverso gli occhi senza visto di un povero Cristo che può agire nel mondo solo come essere umano fra gli esseri umani io l'ho sempre detto il crollo delle ideologie la fine delle menzogne che grazie sia pure parzialmente perché la buona parte dell'umanità vuole essere presa per il culo vuole vivere in un sogno vive in un sogno e la prendono per il culo anche perché ti ho citato prima il caso di quel condominio in quel condominio pare che vogliono pagare questi 32 o 38 mila ma quando noi ieri eravamo per conto di un altro che aveva un debito di 2 mila euro quando noi eravamo in quella manifestazione ieri pomeriggio ma non dicevamo le stesse cose che quella gente lì non capiva e ci domandava perché chi c'è dietro di voi perché lo fate sapete quanto rischiate questo la dice lunga sulla mentalità anche di quelli che avrebbero la lucidità mentale per poter fare 2 più 2 per poter fare un'analisi semplicissima che loro abituati a fare analisi di ben altro calibro e nonostante questo il loro condizionamento mentale è talmente forte che è pregnante che oramai non riescono più a identificare l'elemento su cui indagare l'elemento su cui prendere delle decisioni l'elemento su cui andare a mettersi in posizione di antagonismo di opposizione netta ecco tutte queste cose qui sono oramai passate nell'oblio nella dimenticanza più soporosa più ipnotica ecco una forma di ipnosi assolutamente pervalente esattamente correlabile a quello che hai detto prima magistratura indipendente che implicitamente se ne deduce che il resto non è indipendente voglio vedere se anche quelli che fanno parte di magistratura indipendente sono obiettivamente indipendenti e da che cosa ovviamente uno che è indipendente non lo deve dichiarare lo è e basta esattamente quindi a maggior ragione io sono convinto che loro che si dichiaravano indipendenti come adesso questi che si dichiarano repubblicani democratici libertari che cazzo ma se vuoi essere libero non c'è bisogno di definirlo in niente lo sei non c'è bisogno di avere ieri ci hanno dato l'attestato se io sono un genio non c'è bisogno di nessun attestato esattamente tant'è vero che gli altri cercano gli attestati certo infatti noi abbiamo detto vabbè che cazzo dacciolo pure o in via del tutto transitorio le testate se ti fa piacere io ho detto concedimelo pure ma a me non me ne frega assolutamente niente questo per dire voglio sempre agganciarvi poi me l'ho dimenticato di dirlo prima allora va in giro su internet presumibilmente anche in alcune televisioni e alcune dichiarazioni di un prete un telepredicatore il quale veramente da buon cristiano anche se non cristiano cattolico sono tutti uguali ha dichiarato in maniera perentoria che che Putin è Gog e Magog perché l'ha detto Ezechiele nel Ezechiele virgola 38 ho riscontrato nel comportamento di Putin quello che aveva previsto Ezechiele 38 allora vi ricordano quelle profezie no? quelle profezie Malachia Malachia è il migliore Malachia presentami tua zia si diceva Malachia presentami tua zia Malachia Isaia e Geremia sono tutti lì tutti finiscono così allora è bello che Malachia è il meglio perché dice una marea dei cazzate assolutamente imbattibile allora voglio aggiungere questa queste profezie e ti immagini la profezia di Isaia la quale è scritto contarono le mie ossa torturarono le mie mani i miei piedi profezia di Gesù profezia di Gesù allora questa è una profezia dove uno scrive mi hanno bastonato a fare i suoi quello di Cagliostro no no quella di Cagliostro è etica va condannata va messo in carcere ma i protocolli dei salvi anziani di Sion che è stato scritto a inizio a fine a fine a fine a fine si sta verificando conto no quella è falsa quella è una profezia falsa dopodiché la parola orazzi si no chiudiamo qui e facciamo un altro spezzone allora se vuoi fare un altro spezzone voglio finire quello che è incominciato perché allora qui ci stiamo e finchiamo tutto allora dunque due cose la prima voglio far vedere questa immagine e poi far riflettere i nostri amici questa è un'immagine pare dice chi è ma chi è è Cristo allora secondo loro questi qui è Cristo no ma aspetta fino al 1300 Cristo era rappresentato in tutte le icone o icone come lo chiamavano con i capelli neri con i capelli scuri e il colorito arabo arabbeggiante e senza barba eccolo qui viceversa dal 1300 è Santa Pollinare eccolo qui è l'abside di Santa Pollinare dove Cristo pasce le sue pecorelle ma stranamente non ha la barba allora che era dato al barbiere primo dopo c'è la barba ed è biondo quindi i lunghi biondi biondo era e bello e di gentile aspetta dopo 1300 anni cambia moda è dura potetevi attenere quando cambia moda ha dovuto fare i suoi bei sacrifici tant'è vero che noi dicevamo qui vedi dice se aveva fatto la prova costumina no ma aspetta me l'ho dimenticato me l'ho dimenticato gli occhi azzurri per la miseria gli occhi azzurri sono belli gli occhi verdi sono belli gli occhi blu ma le gambe ma le gambe a me piacciono di più allora ripetiamo questa bellezza risponde ai canini platonici perché il canone platonico è molto semplice la bontà equivale a bello il buono è sempre bello è anche bello ma io voglio leggere un'altra frase capito il sacramento dell'eucaristia perché voglio soffermarmi anche all'interno di una logica discorsiva questo ovviamente è stato scritto veramente da un santuomo mi dispiace per lui era un santuomo ma era un po' coglione no no era un santuomo ma era un prete io posso confermare che è stato un santuomo però tutti i sacramenti che sono sgorgati dal cuore sacratissimo di Gesù quindi pensa che il cuore era sacratissimo e dice oh che significa solo che sacro significa nascosto che vuol dire che senso ha una cosa sacer allora dice era nascosto o era qui fuori era qui fuori il senso delle parole allora il battesimo è il più necessario ma il più grande il più augusto il più santo il più adorabile è l'eucaristia di fatti vedi come è l'atteggiamento come dire paternalistico dei preti nei confronti del semplice di fatti tutti gli altri sacramenti contengono e producono la grazia grazie 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 e ci dà l'autore stesso della grazia è il principio di ogni santità Gesù Cristo stesso il termine eucaristia viene dal greco e vuol dire rendimento di grazie allora chi è che rende grazie? no grazie grazie io sono intrecciati con le parole rendimento di grazie si chiama così perché Gesù Cristo prima di istituirla reso grazie siamo noi che dobbiamo rendere grazie a Gesù Cristo o a noi che a noi e al Padre guarda quello che si diceva anche ieri dove siete Gesù Cristo alla destra del Padre e il Padre dove siete alla sinistra di Gesù Cristo guarda che è così ragazzi ricordiamoci bene perché è il principale mezzo con cui i cristiani rendono grazie a Dio per Gesù Cristo del beneficio della redenzione e qui viene il bello perché qui dobbiamo chiarire bene per quale ragione una certa persona si senta obbligato a scrivere questa frase l'Eucarestia contiene realmente e veramente il corpo il sangue l'anima e la divinità di nostro Signor Gesù Cristo che bisogno c'hai di confermare a chi al fedele che legge questi articoli alla donna novantenne che va in chiesa a recitare il rosario che significa realmente e veramente come quell'altro prete che ho fatto vedere Gesù è veramente risorto è risorto o non è risorto che bisogno hai di dire che è veramente risorto vuol dire che non ci crede nessuno vuol dire che non ti crede nessuno è costretto e c'è un'obiezione continua è veramente ricordato capito allora dice quello o dice ma tu ma io è verissimo è vero è vero che vado a urinare sotto gli alberi quindi io urino veramente anche quando a volte faccio altri bisogni ci capita li faccio sotto un albero truculento va bene andiamo va chiudiamola qui e apriamo il secondo importantissimo capitolo di queste nostre due chiacchierate dominicali